A rientro dalla pausa scolastica, i 40 allievi della Tecundo canavese hanno trovato sul tatami della loro palestra il 26enne nove volte campione nazionale di Bosnia-Herzegovina, Haris Musa, che passerà qualche settimana in canavese. Il grande atleta Stella Balcanica a cintura nera secondo Dan e oggi allenatore, per nove anni è stato sul podio più alto delle competizioni e ha partecipato a gare tutto il mondo, giudicandosi un quinto posto europeo e non stava assoluto nel ranking dei mondiali di Città del Messico.